7 di febbraio, piani di bobbio e andiamo a farci questa seconda pista della giornata. Siamo alla seggiovia Ocellera che ci porterà su per fare la pista numero 2 rossa Ocellera. Si parte e per magia voilà, siamo già arrivati in cima. Riprese video in 4k 30 fps Superview con la GoPro Hero 7 Black, godiamoci di magia tutto. E anche il titolo, pista numero 2 Ocellera nel comprensorio piani di bobbio Valtorta. E guardate che panorama! E se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale in modo da essere informati su tutti i nuovi video che verranno caricati. E ricordatevi di cliccare anche sulla campanella di fianco in modo da ricevere le notifiche. E già che ci siete, continuidete sui social i video che preferite. Volendo, potete seguirmi anche su Twitter. E perché no, anche su Instagram. Vi ricordo che nelle descrizioni sotto al video trovate sempre i link a tutta l'attrezzatura che utilizzo. E iniziamo quindi la discesa sulla pista numero 2 Ocellera, pista rossa. E inizi Bliss Un'è? 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 Grazie a tutti. 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 Un po' di sassolino anche qua, eh? A stare attenti. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.